Sì, non mi sapeva la nascolta. Oh, guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guard Asi che non vediamo un caffolo, temiè? Posta da buona e anche Oda pica da un'alto, oda pica da un'alto E che cosa che ho da un'alto ahahahhahahahaha ohhah ahahha ahahahah ah nasce ahahahah 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 ahahah io كلام questo che cosa grazie